Epistola ai Romani, capitolo sedicesimo esistenza a molti e anche a me stesso. Salutate Prisca ed Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù, i quali per la vita mia hanno esposto il loro proprio collo, ai quali non io solo, ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie. Salutate anche la chiesa che è in casa loro, salutate il mio caro Epeneto che è la primizia dell'Asia per Cristo, salutate Maria che si è molto affaticata per voi, salutate Andronico e Giugno, miei parenti e compagni di prigione, i quali sono segnalati fra gli apostoli e anche sono stati in Cristo prima di me. Salutate Ampliato il mio diletto nel Signore, salutate Urbano, nostro compagno d'opera in Cristo, e il mio caro Stachi, salutate Appelle che ha fatto le sue prove in Cristo, salutate quei di casa di Aristobulo, salutate Erudione, mio parente, salutate quei di casa di Narcisso che sono nel Signore, salutate Trifena e Trifosa che si affaticano nel Signore, salutate la cara Perside che si è molto affaticata nel Signore, salutate Rufo l'eletto nel Signore e sua madre che è pure mia. Salutate Ansincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e tutti i fratelli che sono con loro, salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella e Olimpia e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli un gli altri con un santo bacio, tutte le chiese di Cristo vi salutano. Or io vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quei che fomentano delle dissensioni e degli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, e ritraetevi da loro, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo ma al proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra ubbidienza è giunta a conoscenza di tutti. Io dunque mi rallegro per voi, ma desidero che siate savi nel bene e semplici per quel che concerne il male. E lì Dio della pace triterà tosto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Timoteo, mio compagno d'opera, vi saluta, e vi salutano pure Lucio, Giasone, Sossipatro, miei parenti. Io, Terseo, che ho scritto l'Epistola, vi saluto nel Signore. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città e il fratello quarto vi salutano. La grazia del nostro Signor Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Ora a colui che vi può fortificare secondo il mio Vangelo e la predicazione di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto occulto fin dai tempi più remoti, ma è ora manifestato, e mediante le scritture profetiche, secondo l'ordine dell'Eterno, noi Dio è fatto conoscere a tutte le nazioni per addurre all'ubbidienza della fede, a Dio solo Savio per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria nei secoli e dei secoli.